Bella partita da Orange Team Unis, finita la partita tutta 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 Medaglia cosa ne pensa della partita? La partita è stata molto vicenda, alcuni di loro già li conoscevamo, si sente? Ok, niente, purtroppo è andata così La Clorna ha avuto qualcosa di lunghi di noi, noi sul finale ci siamo venuti Hai avuto pochi palloni? Si, questo è una nostra pecca perché le volte noi tratteniamo troppo le palle di piedi e questo fa si che diamo più disponibilità agli altri A questo punto pensate che vi qualificate? Noi speriamo, puntiamo alla Champions Grazie Grazie